Il mercato comunale di Sarezzo Ed ecco il solito Sarezzo che neanche col mercato si sente a posto L'associazione dei commercianti è contrario al mercato settimanale Purtroppo il comune di Sarezzo non è ancora riuscito a trovare una dislocazione diversa dal centro del nostro comune C'è da Piazza Cesare Battisti, da Via Zanaudelli Comunque il mercato di Sarezzo è un evento storico Da fatto che viene ricordato il mercato a Sarezzo ancora nel secolo XV Negli ultimi mesi il mercato poi si è notevolmente sviluppato Essendo aumentato il numero delle bancarelle Il mercato di Sarezzo si tiene ogni giovedì A tutti le buone spese da Rete 5 Iscriviti al nostro canale Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti